Barbara D'Urso mamma. Un lato della conduttrice di pomeriggio 5 e domenica live che raramente viene fuori sia sui social sia in tv come nelle interviste. I suoi due ragazzi, Gian Mauro ed Emanuele, sono figli di Barbara D'Urso e Mauro Berardi, ma hanno scelto strade molto diverse da quelle della madre. Gian Mauro è il maggiore, 32 anni, mentre Emanuele ha due anni in meno. Entrambi non hanno voluto seguire le orme di Barbara D'Urso e hanno inseguito carriere lontane dal mondo dello spettacolo, così come lontani si tengono dal chiacchiericcio. È proprio per questo che Carmelita ne parla raramente, non senza Ram Amrico, ma in un'intervista a Panorama ha fatto uno strappo alla regola e raccontato qualcosa di loro. I miei figli sono riservati, non vogliono che influenzi la loro vita e che si sappia che sono i miei figli, ha spiegato la presentatrice, io li guardo crescere e taccio. Con fatica. Gian Mauro ha scelto la carriera medica, mentre Emanuele è un fotografo professionista che gira il mondo grazie al suo lavoro. Del primo genito Barbara ha detto, Gian Mauro è medico, fa trapianti di fegato. A ottobre si trasferirà per un anno e io sto già soffrendo. La D'Urso ha anche confessato un desiderio che il figlio non le consente di realizzare, l'altra sera gli ho chiesto, ti prego, una volta fammi venire in corsia nel tuo ospedale, ti vorrei vedere col camice, sarebbe un regalo per me. Mamma, sai che non è possibile, mi ha risposto. Grazie a tutti.